Si svolta questa mattina nella Sala San Severino della Certosa di San Lorenzo a Padula la cerimonia di premiazione di sei scuole per il progetto Un giorno da Certosino, il tuo paese in tre minuti. Il progetto è stato presentato dalla cooperativa Sociale il Sentiero con l'adesione del comune di Padula e sostenuto dalla regione Campania. A questo progetto hanno partecipato numerose scuole secondarie di primo e di secondo grado di tutta la Campania, raccontando con videoimmagini bordi, monumenti e paesaggi. Un progetto di promozione storico-culturale che punta alla valorizzazione territoriale della Campania. Prima di dare inizio alla cerimonia, Caterina Libiango, vice sindaca di Padula, porta i suoi saluti di tutta l'amministrazione ai presenti e si complimenta con le scuole vincitrici. Ad essere presente tra gli altri il presidente della cooperativa Sociale il Sentiero Fiore Marotta e Felice Casucci, assessore alla semplificazione amministrativa e del turismo della regione Campania. Le scuole premiate sono l'istituto comprensivo Caggiano di Caggiano con l'elaborato Le bellezze del nostro paese, l'istituto di istruzione superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina con l'elaborato alla scoperta di un antico borgo, Montesano sulla Marcellana, l'istituto di istruzione superiore Ipsar Piranesi di Capaccio Pestum con l'elaborato Pestum, un pezzo di storia del Cilento, l'istituto comprensivo Teodoro Gaza di San Giovanni Appiro con l'elaborato U Paesi Mio e l'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Manocalzati Avellino con l'elaborato Frammenti di un racconto.